Siamo di fronte all'ennesimo blef della Meloni. Lo ha fatto durante la campagna elettorale, promettendo un blocco navale più irrealizzabile. Ha fatto vendendo l'accordo con la Tunisia come risolutivo e sono aumentati invece i migranti della Tunisia. Lo ha fatto vendendo una svolta col Consiglio Europeo e non c'è stato nessun accordo risolutivo per la redistribuzione. È andata a Cutro, non era neppure informata sui dettagli della tragedia, soltanto chiacchiere. Attenzione, questa è un'illusione comunicativa che dopo 24 ore sparisce. Sul tavolo rimane il vuoto di questa sostanza politica e soprattutto rimane un Presidente del Consiglio che si sta dimostrando maldestro e inadeguato. Arriva con gli stivali in Romagna, promette, sono passati 5 mesi e non c'è neppure la piattaforma per fare domanda dei ristori. Eppure aveva detto che con 1000 euro, con un click, tutti gli italiani in pandemia dovrebbero essere soddisfatti.